Un altro grande giro d'Italia, Giulio, maglia azzurra oggi a Roma, non è la tua, è di Frum, ma comunque un grande giro. Sì, diciamo che abbiamo provato un po' fino all'ultimo ieri e per qualche punto non sono riuscito a prendere questa maglia, però dai, già indossarla per diversi giorni è stato un piacere, essere battuto da Frum è un onore, quindi mi goderò questa passerella finale con questa maglia, anche se un po' di rammarico c'è. Che giro è stato per te, Giulio? È stato un giro durissimissimo, un giro fatto a livelli e ritmi esasperati, però dai, era partito non nel migliore dei modi, forse è mancato il risultato pieno, però è stato un bel giro. L'ultima cosa, Cassani ai nostri microfoni, ha detto Giulio può sperare nella maglia azzurra? Io ho sempre detto da inizio dell'anno che speravo di essere competitivo perché voglio arrivare a fine anno, nel periodo del mondiale, voglio cercare di essere in condizione per giocarmi magari un posto, oppure anche solo mettere qualche dubbio a Davide se portarmi o meno, però assolutamente non voglio essere presuntuoso, ci sono corridori campioni più forti di me, vedremo strada facendo come andrà il resto della stagione.